Tommaso Lamalfa, per il secondo anno consecutivo l'Associazione Oltre organizza un convegno sul Kiwi. Quali saranno le tematiche di quest'anno e perché l'Associazione insiste su questo tipo di convegno? Salve a tutti e ben trovati a nome dell'Associazione Oltre. Anche quest'anno abbiamo organizzato con il patrocinio del Comune di Policoro e dell'Alsia il convegno con focus sul Kiwi. Quest'anno ci occuperemo della cultura e delle sue prospettive di mercato, ovviamente in funzione alla luce dei cambiamenti climatici. Inoltre daremo delle informazioni utili ai produttori per cercare di migliorare, mantenere e conservare quelle che sono le caratteristiche chimiche, fisiche e microbiologiche dei suoli. Il tutto ovviamente per andare a prevenire quella che è la cosiddetta moria del Kiwi. Ringrazio a nome di tutta l'Associazione, chi ha partecipato a questo evento e chi ha patrocinato, quindi il Comune di Policoro e l'Alsia e tutti gli sponsor dell'iniziativa. Vi aspettiamo il 25 gennaio dalle ore 16 presso l'Aula Consiliare del Comune di Policoro.